Ma cos'è? Uno scherzo? Risponde l'operatore 1, 3, 5, 7, 9, 5 e un quarto. Posso esserle utile? Eh, sì, sì, buongiorno. Avevo telefonato perché volevo comprare uno smartphone. Odissea nello spazio? Sì, sì, Odissea nello spazio. Kubrick? Ma no, Kubrick è regista. Era un nome che aveva mezzo nome, mezzo numero, calma, mal, mal, mal. A non rivederci. Come a non rivederci? Vai. Buongiorno, Davide. E benvenuto a Psycron. Sono Alessia. In cosa posso esserti utile? Eh, Alessia? La sua autossima, non tutti riescono ad esserlo. Contenti, intendo, eh? Dato che sul fatto di essere uomini, vale a dire maschi, possiamo stendere molti vei, alcuni pietosi e altri meno. Ma insomma, non voglio farle perdere tempo. In cosa posso esserle utile? Molto bello, sì, ma bene ha portato fuori, sì, a giro, sì. È un pizzaglio, eh. Bravo, bravo, eh. Ma come si chiama questo cane, eh? Come si chiama? Giulio. Ma che bel nome da cane. Lei allora si chiamerà Bobbi. Possiamo ritrovarci con sub-multi etnici, eh? Muti etnici? A così com' ammigrano i migranti, a così migrano i nostri, anzi i vostri soccorsi. Sì, microcittalandese del cazzo. Tu ti fermi per pagare e guardi dentro e ti sforgi quasi sempre un grumprico chiaruto a guardarle le pompe. Oh, ma come ti permetti? Ma che pensi che sia un maniaco del casello? Soletto ruolo di giocatore, arbitri e vado. Da questa stagione mai più un mobiore rischio discussione per una partita di calcio. Sono uno dei stessi spettatori a decidere l'andamento della gara in una formidabile traduzione del concerto di partecipazione. Vincerà chi ci sente di più. Ma su. Vincerà chi ci sente di più. Vincerà chi ci sente di più. Vincerà chi ci sente di più. Vincerà chi ci sente di più.